Intanto benvenuti e grazie di essere qui, questa è la prima cosa. Io mi chiamo Serena Fumero e questa sera sono insieme a Marco Cazzato proprio per parlare di questo suo lavoro appunto di illustrazione I sepolcri della casa editrice e saggiatore. L'emozione è ovviamente già perché mi sono già impappinata all'inizio, assolutamente no, no dicevo è una curiosa coincidenza questa perché cinque anni fa proprio nel 10 di novembre del 2016 eravamo qua sempre con Marco Cazzato per la presentazione di un libro, di un silent book che era album al circolo dei lettori. Io, Marco e Marco Ferrari, verrebbe da dire troviamoci più spesso, insomma, sempre in queste occasioni. Poi i sepolcri, cioè immediatamente ci rimanda l'idea del funerale quando uno dice cerchiamo di trovarci anche in altre in altre situazioni, insomma. E quindi questa sera è una sera davvero particolare per la presentazione di questo di questo lavoro di Marco. Il clima aiuta, insomma. Il clima aiuta sicuramente e anche se vogliamo il fatto che un illustratore come Marco, di cui, insomma, probabilmente se siete qua conoscerete il suo lavoro, il suo lavoro di illustrazione in primis la cosa che viene immediatamente in mente, il discorso della stampa, delle delle illustrazioni della stampa per la rubrica ancora di Gramellini, ma passato del tempo, altre e moltissime altre collaborazioni sia appunto all'interno di case editrici oppure appunto anche lavori personali come quello presentato qua cinque anni fa, cinque anni fa appunto, oppure gli ultimi lavori con cui ti stai misurando, insomma, illustrazione di classici. Mi viene in mente una presentazione di qualche tempo fa, insomma, in cui ti sei misurato con un remark, niente di nuovo sul fronte occidentale, e una delle domande che ti fecero fu proprio quella di, insomma, del, in qualche modo, l'approccio, un certo tipo di, se vuoi, anche timore nell'approcciarsi con un classico del genere. Ora siamo a foscolo con i sepolcri, quindi possiamo immaginare, insomma, il livello, ecco. L'idea proprio è quella di misurarsi con il monumento, il monumento proprio nel senso effettivo del termine. Questo, insomma. La risposta è ansia, molta ansia e molta responsabilità nell'approcciarsi a testi di questa portata. Insomma, già con Remarca avevo avuto quei bei momenti di panico, insomma, di forte responsabilità anche per per affrontare un testo di, insomma, così importante, eccetera, e poi la situazione è peggiorata, ovviamente, con con Foscolo, perché, insomma, qui veramente, come dice giustamente Serena, stiamo parlando di monumenti della letteratura e, insomma, quando il saggiatore, l'editore, mi ha contattato, insomma, è stata, da un certo punto di vista, insomma, molto, sono stato lusingato e molto onorato, però ovviamente ho sentito fortissima la responsabilità di mettere mano a un testo di questa portata. e quando ho accettato, insomma, ho cercato di, vabbè, innanzitutto mi sono rimesso a studiare, perché comunque era un testo che aveva un vago ricordo scolastico, ma, insomma, non avevo mai approfondito e quindi per prima cosa, insomma, mi sono rimesso a studiare il testo, ho cercato di trovare una chiave che fosse in qualche modo quella giusta, che rendesse merito al testo, ma che in qualche modo potesse anche essere nelle mie corde. Il fatto che il saggiatore abbia chiamato me, forse che, perché comunque, insomma, il mio immaginario, il mio stile, insomma, non è proprio coloratissimo o allegrissimo in genere e quindi, insomma, si prestava bene a questo tipo di immaginario. Quello che però è successo è che, insomma, approcciandomi al testo e iniziando a studiarlo mi sono reso conto che, insomma, la portata e l'ampiezza e la complessità di un testo come i Sepolcri non era, non sarebbe stata, insomma, una passeggiata, non sarebbe stata una cosa facile da realizzare e proprio perché, insomma, faccio proprio una mini sintesi di quello che sono i Sepolcri. Foscolo scrive i Sepolcri a due anni di distanza dall'editto di St. Claude, l'editto napoleonico che sostanzialmente imponeva di spostare i cimiteri al di fuori dei luoghi abitati e di rendere le lapidi tutte uguali, quindi nessuna iscrizione, nessuna immagine, eccetera. Quindi una omologazione della sepoltura, praticamente. E a Foscolo questa cosa non sta bene e quindi in forma di carme, quindi in questa forma poetica, scrive al suo amico Pide Monte questo poema, questo carme, per, insomma, portare il suo punto di vista rispetto a questo argomento e quindi fa sostanzialmente un elenco, insomma, un elogio e tutti i motivi per cui una sepoltura, i cimiteri, le lapidi, eccetera hanno una importanza fondamentale. È un testo assolutamente laico, la religione centra veramente solo in piccoli passaggi ma è un testo, ha un approccio assolutamente laico alla questione e è una riflessione più che altro su chi resta, cioè l'importanza di un luogo del ricordo, della memoria che è più importante appunto per chi resta, per piangere e per avere un ricordo, per avere un dialogo con chi non c'è più. Questo viene fuori soprattutto nella prima parte del testo dei sepolcri. Ci sono, insomma, c'è tutta una parte anche, insomma, la natura è molto presente anche nel testo. Più volte si parla appunto di cipressi, dei profumi, eccetera e anche di questo, insomma, dell'armonia e della serenità che si può trovare nei cimiteri e poi, insomma, fa tutto un elenco anche, insomma, dell'importanza di avere un luogo di ricordo e di memoria non solo per i propri cari ma anche per i grandi del passato perché appunto c'è il passaggio, ci sono, quando Alfieri va a visitare le tombe di Michelangelo, di Leonardo, dei grandi del Rinascimento dove trova, insomma, ispirazione, eccetera fino ad arrivare ai greci, a Omero, all'Iliade, all'Odissea, eccetera. E, insomma, quando mi sono trovato di fronte tutta questa cosa insomma, una delle prime reazioni è stata quella di panico perché come faccio a raccontare, a rappresentare tutto questo? C'era il passaggio appunto dove cita le battaglie greche quindi queste grandi scene di ambiente con cavalli, lance, elmi, luccicanti, eccetera e leggendo il testo le immagini che mi venivano in mente erano quelle, insomma, grandi scene di insieme, grandi scene di battaglia qualcosa che poteva ricordare le battaglie di Paolo Uccello che sono molto lontane dal mio modo di rappresentare di raccontare attraverso le immagini e proprio in quel passaggio lì è venuto in soccorso un ricordo un ricordo personale di mio nonno io anche se non si direbbe ho origini salentine soprattutto dal cognome nordico che mi ritrovo origini salentine e mio nonno, un contadino con la terza elementare ogni tanto lui era un appassionato d'opera e ogni tanto si metteva a recitare qualche passo d'opera così a memoria per puro intrattenimento insomma, vi sarà capitato magari di incontrare magari qualche personaggio che recita qualche passo della Divina Commedia a memoria o cose di questo tipo insomma, una fruizione della cultura altissima a livello invece molto popolare quasi come intrattenimento come passatempo e questo ricordo mi ha dato la chiave per affrontare appunto il monumento che dicevamo prima cioè portare i sepolcri a un livello più popolare con uno slittamento temporale in avanti quindi dai primi dell'Ottocento io ho rappresentato delle immagini ambientate in un'ipotetica Italia del sud degli anni 40-50 e attraverso una rappresentazione del testo come accade ad esempio nelle processioni di paese cioè quello che non lo so nella settimana santa accade nei piccoli borghi tuttora nei paesi d'Italia cioè la rappresentazione in quel caso di un testo altissimo come i Vangeli però a livello popolare quindi una messa in scena di questa cosa e questa è stata la chiave che ho cercato di adottare per la maggior parte delle immagini che ho creato cioè una rappresentazione scenica attraverso un'Italia del sud degli anni 40-50 con delle immagini che però dialogano in maniera stretta con il testo cioè quindi una una mia personalissima interpretazione del testo attraverso questa chiave quando ho proposto questa cosa all'editore loro l'hanno subito accettata perché credo che già il progetto iniziale l'idea iniziale di riproporre un testo come i Sepolcri in una versione illustrata avesse proprio quell'intento cioè di riportare al pubblico un testo che notoriamente è considerato insomma pesante difficile eccetera perché insomma a scuola magari veniva imposto e quindi non compreso appieno eccetera però riportarlo con una veste grafica e con con questa interpretazione diciamo più leggera tra virgolette per appunto allargare un pochino il bacino e quindi insomma questo questa è stata la genesi del progetto sì anche perché quando appunto pensi a a Foscolo e pensi ai sepolcri pensi al liceo alla domanda iniziale è appunto il sonno della morte menduro all'ombra dei sepolcri dentro l'urne questa è la prima cosa che viene in mente quelle quattro cose che ci ricordiamo ancora a memoria sicuramente e il il lavoro che hai fatto tu secondo me riflettendoci e guardando e vedendo anche scorrere dietro di noi le immagini è davvero un'altra linea una linea tua personale che assolutamente si si accompagna al al testo altissimo di Foscolo che però ci riporta nel nel nostro pensiero cioè a quello che è davvero per noi il rapporto con con i sepolcri con con i nostri defunti in qualche modo cioè il fatto che tu abbia riportato il discorso e alla memoria la figura di tuo nonno la figura di quello che per lui rappresentava e in qualche modo richiamare alla memoria di ognuno di noi un vissuto che poi alla fine è un vissuto che condividiamo in questi giorni e con giorni giorni veramente molto recenti di visite ai ai sepolcri ai sepolcri nostri e all'immaginario che è diverso da un immaginario magari ottocentesco sicuramente più più romantico più gotico ma molto più più popolare perlomeno immagino in una città di provincia o immagino una città appunto una cittadina del Salento degli anni degli anni 50 60 cioè questa secondo me è anche la potenza di queste illustrazioni il fatto che davvero ognuno di noi in qualche modo va a ripescare con la memoria le sue la sua storia il suo il suo vissuto quello che quello che è effettivamente questo momento di di ricordo e di di relazione con con i propri defunti sicuramente e poi c'è chiaramente la terra la terra del del Salento che è fortissima che è fortissima in in tutta una serie di richiami proprio ne parlavamo ne parlavamo proprio poco prima di questi collegamenti che effettivamente sono sono che si sono sentiti in qualche modo hanno fatto scaturire anche alcune delle delle tue immagini sto pensando adesso stanno stanno scorrendo le immagini delle delle lapidi ma c'è questa questa raffigurazione delle donne delle donne troiane con i capelli sciolti per esempio che adesso aspettate che vado alla pagina eccola qua esatto la pagina la pagina giusta che è questa che che pian piano pian piano arriverà insomma ovviamente il il discorso il discorso di Foscolo si collega al a Cassandra a Troia e all'Iliade ma in qualche modo ci colleghiamo anche alla terra del Salento per forza di cose una terra dove alcuni di questi di questi rituali delle donne delle donne che appunto erano loro le titolari del lutto in qualche modo da sempre se ci pensate anche anche nelle nostre famiglie le donne le madri le sorelle le figlie sono sempre coloro che hanno in qualche modo portato di più il lutto e si sono disperate di più del lutto mentre agli uomini se vogliamo era riservato ancora un altro tipo di onore di resa di onore degli eroi così come appunto nell'epica ma anche nella 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 tradizione popolare e sto pensando proprio a un a un lavoro magnifico degli anni in cui tu chiami la tua insomma il tema del del tuo lavoro sono gli anni sessanta un lavoro stupendo di Cecilia Mangini un un documentario proprio sul sul dolore sul pianto rituale delle donne salentine in cui appunto lei si sofferma proprio su questa ritualità del lutto da parte delle femmine di una piccola comunità che poi riprende se vogliamo anche tutta una serie di tradizioni ancestrali che sono proprio collegate alla tua terra al Salento sto pensando a tutto il discorso del dei dei tarantati per esempio la terra del rimorso di De Martino ma soprattutto questo questo documentario della di Cecilia Mangini che mi confermi che effettivamente sì sì assolutamente quando c'è stata appunto questa epifania con il ricordo di mio nonno poi sono andato a fare tutta una serie di ricerche in quell'ambito e appunto ho trovato sono partito da De Martino con appunto la terra del rimorso questo documentario degli anni 50 in Salento sul sul fenomeno del tarantismo come ambientazioni per avere delle degli spunti di immagini in quel senso e quando sono arrivato al passo delle donne troiane che sciolgono le chiome per piangere e scongiurare il fato degli uomini andati alla guerra inevitabilmente mi è venuto in mente il fenomeno delle prefiche che è quello che stava raccontando Serena cioè queste donne preposte al dolore c'è un ruolo quasi istituzionale nel sud fino a qualche anno fa insomma fino a qualche decennio fa decennio fa di queste donne che venivano assoldate per piangere i morti altrui con tutta una serie di rituali anche lì una messa in scena la messa in scena del dolore e questa cosa appunto si è trasformata nell'immagine che avete visto poco fa con questo con questo passaggio nel senso che poi alla fine questo è un testo che parla di una cosa che riguarda tutti in tutti i tempi e quindi in qualche modo è sempre affrontata grosso modo nello stesso modo e quindi sì questi sono stati i miei riferimenti gli spunti da cui sono partito ci sono poi delle cose assolutamente più personali ad esempio non so se avete visto avete fatto caso nello scorrere delle immagini a un certo punto c'è una lanterna nel riferimento al testo e quello alla religione a un certo punto Foscolo parla appunto della religione ma in senso molto ampio io per rappresentare questa cosa sono andato a disegnare una lanterna che avevo trovato nella vecchia casa di mio nonno appesa nella stalla e facendo insomma chiedendo ai miei genitori alle mie zie che cos'era quell'oggetto sono venuto a sapere che mio nonno faceva parte di una confraternita di paese i battuti bianchi e lui era l'addetto alla lanterna durante le processioni quindi quello era l'oggetto che lui durante le processioni portava portava in paese e quindi per rappresentare la religione ho usato quell'oggetto qui abbiamo appunto le troiane ci sono qui ad esempio è un paesaggio che potrebbe essere non lo so Matera insomma un qualunque paesino del sud e il riferimento al testo è Cassandra Cassandra che porta i nipoti ad accudire i cavalli degli uomini alla guerra con appunto la previsione della fine di Troia questo è Omero Omero cieco la fine del testo dei sepolcri appunto parla di questo Omero oramai anziano che si aggira e abbraccia le urne nei sepolcri e ha le fattezze di mio nonno assomiglia molto a mio nonno anche un'immagine questa è l'immagine di apertura insomma siamo chiaramente in quel tipo di immaginario lì e anche questo è una sorta di un funerale che potrebbe essere ambientato negli anni 40 50 l'idea era proprio smarcarmi un pochino da quella che sarebbe stata la strada più facile più battuta insomma di questo gotico dark che inevitabilmente poi viene fuori ci sono immagini cioè quella ad esempio dei cimiteri inglesi eccetera che voglio dire non disdegno però volevo non adottare solo quel tipo di registro ma avere anche dei piani di lettura differenti su questo testo anche se posso dire che nei cimiteri inglesi sempre facendo un approfondimento su Salento e Sepolcri e Cazzato perché la triade ormai è questa adesso quando scorre ve lo ve lo facciamo vedere ecco la lanterna eccola esatto ci sono queste queste erbe appunto all'interno delle delle tombe assolutamente di aria inglese celtica di questa di questa illustrazione che hai fatto in realtà ricordano tantissimo i saburchi cioè queste sorte di letti in cui vengono vengono ancora oggi seminati sul sulla sabbia germi di grano piuttosto che semi di ceci che all'inizio della quaresima eccole proprio qua l'idea è proprio questa voi dovete immaginare sugli altari delle chiese delle chiese salentine una cosa di questo genere delle specie di infiorescenze realizzate con i germi di questo grano che è stato cresciuto all'interno di armadi di zone completamente private dalla luce durante il periodo della quaresima ecco questa è l'unica pianta che viene consentita sugli altari della settimana santa durante il periodo prima della pasqua e anche questo è assolutamente collegato a uno di questi ma sì tradizioni riti ancestrali che collegano che collegano la terra che in qualche modo appunto possiamo ripescare nelle zone del Salento come in tante altre zone insomma ognuno può ricordare qualche qualche tipo di di usanza prima stavamo parlando appunto di Stendali questo documentario di Cecilia Mangini del discorso dei capelli per esempio delle donne e di come questo pianto da pianto delle persone disperate che hanno subito un lutto in qualche modo diventa sempre più stilizzato cioè la ricerca è proprio quella di ritualizzarlo stilizzarlo e renderlo qualcosa di quanto più simile ad un ad un rito innocuo che non rimanda a qualcosa invece di di molto più istintivo e lo stesso gesto di tirare il chiome delle donne è quasi come una danza che si accompagna a questo lamento funebre a questo pianto che ancora continuava fino agli anni sessanta ancora Pasolini stesso insieme a Cecilia Mangini lo documenta e questo è insomma un altro un altro livello è stata la chiave dell'approccio che ho adottato per questo testo qui appunto come dicevo prima la rappresentazione scenica una messa in scena come se fosse una processione come se fosse un rito che in qualche modo non stempera se vogliamo il fenomeno e lo porta però a un livello più fruibile da tutti questo è stato l'idea iniziale insomma ma io vado proprio alla memoria mia per esempio cioè sto pensando a qualche giorno fa io ho la fortuna di avere ancora una nonna e siamo stati io e mia nonna al cimitero ed effettivamente l'occhio durante il percorso cade su queste cose che tu in qualche modo hai inquadrato sulla lapide sulla fotografia sul fiore sull'epitaffio anche sicuramente sui parenti su tutte le persone che in qualche modo sono collegate all'interno di questa città è vero alla fine ha ragione fosco lo serve ai vivi probabilmente e questo sicuramente ma ma è ma è veramente molto importante e questa tua lettura secondo me va veramente a colpire quello che che è un po' la lettura di ognuno però adesso vorrei provare a farti insomma qualche domanda proprio sul sul disegno sulla tecnica che hai usato nel nelle illustrazioni sì no la tecnica è insomma quella che mi mi accompagna oramai da più di vent'anni cioè la sono colori acrilici su carta e io ho questo insomma questo modo insomma di lavorare partendo da da questi fondi neri e poi man mano tirando fuori le luci e andando strati su strati con questa texture che va a formarsi di una insomma più una pennellata ruvida che in qualche modo viene fuori e che dà un corpo abbastanza denso alle alle immagini e insomma dopo qualche piccolo excursus nel nel digitale negli ultimi lavori sui sepolcri ovviamente sono tornato al al metodo tradizionale perché mi sembrava quello più adatto per per approcciarmi a un testo di questo tipo qui e questo certo oltre a quello c'è anche il discorso proprio del del taglio della della scena della proprio della regia tua nella scelta del dell'inquadratura quella dei dettagli sicuramente mi sono reso conto negli anni che contraddistingue insomma il mio modo di rappresentare cioè come dicevo prima piuttosto che rappresentare grandi scene di insieme che non non sono nelle mie corde preferisco appunto soffermarmi su un insieme di piccoli particolari di piccoli dettagli che poi visti come le tessere di un mosaico vanno a formare un quadro insieme cioè delle piccole suggestioni che però poi alla fine raccontano qualcosa di più ampio insomma mi sono reso conto che soprattutto nell'approccio ai libri perché poi appunto come illustratore mi capita anche di avere altri altri tipo di commissione illustrazioni fine a se stesse che ne so per i quotidiani o per le copertine dei libri eccetera che insomma sono una e finisce lì quando si tratta di un insieme di immagini mi sono reso conto che appunto mi è più congeniale quel modo lì cioè soffermarmi e raccontare un quadro di insieme attraverso dei piccoli dettagli poi inevitabilmente in questo testo insomma erano necessarie poi delle delle immagini più più di insieme però l'approccio è sempre comunque insomma di estrema sintesi anche in quel senso lì però in alcune immagini c'è proprio un approccio per capirci non so se qualcuno conosce sto pensando ad album il lavoro che tu avevi fatto sulle fotografie di famiglia era un lavoro molto particolare che partiva da un'idea di una grossa quantità di fotografie anche di sconosciuti soprattutto di sconosciuti che lui che lui aveva trovato poi dopo ce lo ce lo racconti bene e da lì era partito appunto ad aggiungere dei suoi elementi a rielaborare questi soggetti ma sempre partendo dall'idea della della fotografia di famiglia spesso anche sbagliata quelle classiche fotografie dove viene tagliato magari un pezzo del protagonista o magari il protagonista è nell'angolo e tutto il resto potrebbe anche essere un panorama insignificante ma era proprio questa la sua la sua ricerca ecco non in tutte naturalmente ma in alcune di queste ancora viene fuori questo questo tuo insomma questa impronta sì perché insomma è un immaginario che mi mi piace mi interessa e mi ci trovo bene questo tipo di immaginario e quello che era album adesso senza fare paragoni azzardati però comunque stiamo parlando sempre di un libro sulla memoria perché questo è di questo stiamo parlando c'è la memoria in questo caso di chi resta oltre insomma a chi è passato a miglior vita mentre album era appunto una memoria di un di un immaginario di un tipo di mezzo che era appunto la fotografia la fotografia quotidiana quella di famiglia appunto che non esiste più perché adesso con i mezzi con i telefonini eccetera nessuno stampa più le fotografie e quindi non esisteranno più degli tra virgolette archivi ma che per lo più erano che ne so album o scatole riposte in soffitta o sotto un letto con tutte le fotografie di famiglia e questo era appunto un un ambiente che mi appassiona e mi interessa quello di per il potere narrativo che hanno queste immagini perché appunto me ne sono reso conto con questa passione appunto con questa ricerca nei mercatini delle vecchie foto il potere narrativo di questo tipo di immagini cioè avere appunto questo piccolo fermo immagine della vita di una persona che ha trascorso chissà quanti anni per arrivare a quel momento che viene congelato nel tempo e poi ha continuato a vivere e per mille giri inenarrabili quel tipo e quella fotografia è arrivata poi nelle mie mani questa cosa ha appunto crea un una storia crea un racconto mi crea un racconto cioè mi viene da pensare chi era quella persona come ha fatto arrivare lì cosa cosa aveva intorno cosa aveva in testa in quel momento insomma questo è il potere evocativo delle immagini che maggiormente mi mi stuzzica mi interessa voglio voglio esplorare e portare a galla e in qualche modo è quello che poi è successo anche con i sepolcri perché anche qui appunto stiamo parlando di di memoria e proprio per quello che dicevo prima cioè per affrontare e togliermi da dalle difficoltà ho portato i sepolcri in un ambiente a me più congeniale e conosciuto come appunto questo periodo storico che anche esteticamente mi piace molto cioè questi bianchi e neri questo tipo di immagini mi colpiscono sempre molto e mi e banalmente mi piace disegnarle quindi insomma questa è la ricerca a volte anche semplicemente questa cioè rappresentare e disegnare quello che mi va di disegnare e rappresentare in quel momento e poi c'è ci sono anche dei riferimenti anche a dei luoghi dei luoghi conosciuti sto pensando a cimiteri monumentali come Staglieno o come a San Michele a Venezia che comunque è richiamata insomma l'amore per andare per cimiteri e per questi questa è una passione comune vabbè Serena Fumero oltre a essere una storica dell'arte museologa eccetera è anche la fondatrice e detentrice del Salone del Lutto questa pagina che insomma spopola sui social che affronta appunto questi temi e quindi inevitabilmente era la relatrice perfetta per questa serata e sì quindi questa io lo ammetto cioè nei cimiteri insomma se vado in una città tendenzialmente vado a visitare neanche il cimitero perché sono luoghi che mi mi piacciono esteticamente mi danno pace mi danno serenità quindi mi piace ovviamente anche rappresentarli e quindi insomma sono ben felice di averne avuto la possibilità con il testo per eccellenza insomma no comunque è interessante fare questa riflessione partendo da Foscolo e dalla domanda che pone lui no sull'importanza per i vivi delle delle commemorazioni dei defunti e dei luoghi in cui riposano i defunti gli amorosi sensi famosi la corrispondenza di amorosi sensi ora insomma diciamo che insomma la situazione è un pochino diversa se pensi il rapporto con la morte oltre che proprio con il luogo dei defunti è cambiato è cambiato decisamente c'è proprio quasi un rifiuto a tutto questo c'è una c'è un insomma all'intero di di molti testi che parlano dell'approccio proprio alla all'idea della morte al di là delle delle mille maniere insomma per svicolare anche soltanto per dirla per nominarla è scomparsa insomma è volato eccetera quindi già si cerca in qualche modo una una strada alternativa però anche lì stiamo effettivamente vivendo in un momento dove c'è una il più possibile medicalizzazione della morte un allontanamento proprio della della questione e anche un un non volerne naturalmente parlare cosa che tra l'altro per quel che riguarda noi la nostra società la nostra cultura è una cosa assolutamente in controsenso perché davvero al di là di quello che abbiamo visto ma soltanto fino a una decina una quindicina d'anni fa era completamente diverso il rapporto la vicinanza stessa con col defunto con l'assente ecco colgo l'occasione per dire appunto che la l'introduzione di Marco Ferrari aveva titolava proprio l'assente questa introduzione musicale e in qualche modo il tema è questo cioè l'allontanamento chissà che cosa non avrebbe pensato Foscola da questo punto di vista cioè proprio eliminarla completamente non se ne parla il grande dimenticato o comunque il grande eliminato il tema del lutto e della morte sì sì inevitabilmente insomma è diventato un tabù poi dipende insomma dalle latitudini se penso ad esempio il culto dei morti in Messico invece ha un approccio totalmente diverso cioè proprio più familiare festoso gioioso di convivenza stretta con il defunto sì banalmente associato al cibo certo anche cioè sì sì beh ma anche qui fino a qualche anno fa quando succede ancora adesso forse nei piccoli borghi se c'è un lutto i vicini o i parenti la prima cosa che fanno è portare da mangiare in casa del defunto perché ovviamente i familiari stretti in quel momento non hanno magari la lucidità o la voglia di mettersi a cucinare però comunque è un'esigenza ed è un modo per forse sentirsi vivi in quel momento e stare insieme e sentirsi vicini sono io credo insomma la penso banalmente come foscolo ovvero è un la morte è un fatto della vita e bisogna farci conti è un qualcosa che credo che dia alla misura anche il senso e la la qualità del della vita nel senso che il tempo che abbiamo a disposizione è limitato e a volte insomma soprattutto quando uno è giovane non 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 pensa questa cosa ma andando avanti con l'età inevitabilmente bisogna poi far dei conti e questa cosa credo insomma dovrebbe essere uno stimolo una spinta a vivere al meglio quello che abbiamo il tempo che abbiamo a disposizione su questa terra senza sprecarlo e insomma circondandoci di cose che ci fanno star bene insomma di vivere senza sprecarlo eccetera poi ovviamente insomma io sono il primo che spreca un sacco di tempo però credo che comunque appunto sia una una questione che insomma metterla da parte nasconderla sotto il tappeto non non sia una buona cosa non credo che sia molto sano proprio dal punto di vista umano e etico quindi insomma prima ci si fa i conti e meglio è c'è gente che si gratta comunque sì che qualcuno che sta per abbandonarlo esatto perché poche novembre un po' la roba un po' i sepolchi insomma comunque comunque sì anche perché insomma la cagna insomma il materialismo di foscolo non risparmia nulla anche da questo punto di vista cioè noi siamo natura siamo parte della natura fino in fondo con tutto quello che è il ciclo proprio biologico con tutto quello che può essere questo ciclo biologico di disfacimento di rinascita eccetera insomma sì sì come dicevo prima la natura è molto presente nei sepolcri appunto prima citavo i cipressi i profumi che lui racconta nel nel testo e anche gli animali c'è appunto i cavalli la cagna che si aggira tra le tombe e l'upupa che è diventata la copertina del libro che appunto Foscolo non ho ancora ben capito se è Foscolo che sbaglia completamente e usa l'upupa come uccello sepolcrale notturno per il canto oppure se all'epoca insomma in quel periodo lì era considerata tale perché di solito insomma noi pensiamo che ne so al gufo alla civetta ai corvi insomma animali uccelli di questo tipo legati a questo fenomeno l'upupa è un uccello che io fino appunto a questo a questo lavoro consideravo insomma solare poi il WWF sì poi ha dei colori vivaci l'arancione il bianco eccetera però forse per il canto che ha appunto eccola Foscolo la 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 cita come appunto con questo suo canto lamentoso come uccello che appunto si aggira tra le croci del cimitero e la mette lì quindi sì la natura c'è c'è molto inevitabilmente perché appunto come come dicevi giustamente il ciclo della vita insomma riporta sempre tutto al tema principale cioè della vita e della morte e della terra e della terra certo perché quello quello è beh un'altra un'altra immagine che che è sicuramente potentissima che che richiama la memoria l'immaginario quando si pensa ai morti al luogo di sepoltura c'è l'isola dei morti c'è c'è Boklin so che insomma è l'ultima l'ultima immagine adesso adesso pian piano arriva questa questo luogo ideale realizzato da da quest'artista appunto alla fine dell'ottocento negli anni sono andata a studiare tra il 1880 e il 1886 appunto realizza Boklin cinque versioni della stessa della stessa variazione cioè questo luogo nel mare quest'isola nel mare in cui una barca remi con un con un uomo che sta remando e con una figura in piedi a volte in un sudario che si presuppone sia un defunto con una con una barra bianca ai suoi piedi che sta prodando all'interno di quest'isola di cui non si vede altro che appunto un approdo e una specie di prospettiva creata dai cipressi che fanno proprio una sorta di accoglienza un un anfiteatro per per far entrare la la barca appunto con questa con questa figura con questo traghettatore con questa figura che si presuppone appunto ognuno lo spettatore che guarda questo dipinto si presuppone che il traghettatore lascerà lì questa figura e poi tornerà indietro questo questo dipinto ovviamente ha fatto innamorare interrogare fare questioni per per secoli ancora ancora oggi insomma eppure tu in qualche modo questo è più più San Michele ci sono due due versioni questa più ravvicinata con appunto pensando a San Michele a Venezia che appunto è il cimitero di Venezia che ovviamente è su un'isola e poi questa è l'immagine finale sì cioè io veramente con con molta umiltà insomma non ci volevo neanche pensare aveva dopo Foscolo tutto in discesa certo però insomma non volevo scomodare anche lui però insomma inevitabilmente sì un accenno e un occhio anche a quel lavoro lì c'è stato sì lo ammetto sì tra l'altro quando sono andata a vedere le appunto le versioni che differiscono poco l'una dall'altra ovviamente cioè ci si interroga per quale motivo abbia avuto così successo al di là del fatto che è un bellissimo dipinto ci si interroga forse per il fatto che le persone ma anche tu le hai usate per esempio nella sepoltura le inquadrature delle persone di schiena in qualche modo sono assolutamente magnetiche perché catturano davvero lo sguardo di chi di chi sta guardando il dipinto l'opera anche una fotografia perché c'è un'immedesimazione nel nel protagonista di una scena di schiena e soprattutto in in ambito romantico nel momento romantico sto pensando dal da Caspar David Friedrich dal viandante sul mare di nebbia in avanti cioè l'uomo di schiena in qualche modo cattura l'immagine e e c'è l'immedesimazione dello spettatore così come nel nella figura con con il sudario che va nell'isola quindi questo questo sicuramente oltre oltre all'interrogarsi di quello che succede dopo infatti poi Buckley ha fatto l'isola dei vivi il sesto la sesta versione l'ha intitolato l'isola dei vivi ma infinitamente meno interessante meno 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 intrigante dal punto di vista proprio delle delle questioni che suscita ci sembra la Gardaland cioè una roba sì è più sicuramente più è più rivelata questo questa è la prima la prima cosa ma la cosa interessante che secondo me è legata in qualche modo al a un approccio quasi non dico ironico perché dire ironico Buckley mi sembra un pochino eccessivo però le prime due versioni le aveva intitolate un luogo tranquillo non l'isola dei morti cioè quindi qualcosa di un approccio un pochino un pochino diverso un uomo che tra l'altro aveva dipinto questo appunto quest'opera per un grave lutto che lo aveva colpito e anche lì ci si era interrogati su quale potesse essere il luogo ispiratore da San Michele in isola Venezia al cimitero veneziano al cimitero degli inglesi di Firenze a isole montenegrine per esempio anche un'isola in Grecia che potrebbe essere molto simile con questi cipressi e queste cose insomma però appunto quello che è stato colto è il luogo il luogo tranquillo come si si io prima parlavo di serenità quindi insomma si sono anche lì pienamente d'accordo e si sono d'accordo anche sull'uomo sulla figura di spalle nelle rappresentazioni che sono sempre molto efficaci ed evocative perché oltre appunto all'immedesimazione dello spettatore nel senso che noi siamo insomma nella stessa posizione rispetto a quello che si guarda quello che è il soggetto dell'immagine c'è anche questa questa anonimato perché è una figura di spalle non a volte quindi anche qui il potere narrativo è maggiore perché ci si può immaginare chi sia quella persona e che storia può raccontare perché è lì eccetera quindi anche qui insomma sia in questo testo ma in generale insomma sono immagini che mi interessano e insomma mi piace esplorare e utilizzare quindi assolutamente sono d'accordo io andrei a chiudere perché penso che insomma abbiamo già appesantito abbastanza questo novembre e quindi insomma magari qualcuno ha qualche domanda da fare sul mestiere dell'illustratore per esempio su cos'è per te la morte di nuovo va bene va bene così ecco io per la chiusura devo dire una cosa mentre tu avevi stavi programmando questa questa serata combinazione mentre mentre stavamo parlando di di come di come impostare eccetera combinazione sono tutta una serie di cose che che succedono stavo leggendo un libro che piacevolmente non c'entra nulla con però lo stavo leggendo in quel in quel momento ed è un libro di di Massimo Zamboni conosciuto come come musicista anche soprattutto come musicista dei CSI con CCCP e scrisse qualche anno fa un libro sulla figura di suo nonno sul sull'indagine in qualche modo sulla memoria della figura di suo nonno proprio per la sua conoscenza per il suo percorso perché gli mancava appunto questo tassello l'importanza del discorso della memoria e di chi ognuno è in qualche modo ed è fortemente in qualche modo collegato a quanto noi abbiamo detto abbiamo detto fino ad oggi proprio per l'idea della memoria delle radici e di quello che è la terra la terra di ognuno di noi l'importanza in qualche modo anche del del ricordo e della terra e c'è una frase che che secondo me è proprio adatta per questo per questo momento in cui lui dopo aver riscoperto questa questa figura del nonno passeggia proprio e lo va a trovare fisicamente sulla sua tomba al cimitero prima di farti leggere questo questo brano vorrei ringraziare il circolo dei lettori per l'ospitalità Marco Ferrari al pianoforte Serena Fumero come relatrice e libri da bottega che troverete all'uscita con il libro a disposizione se qualcuno volesse acquistarlo io sarò insomma qui anche per fare delle dediche se vi fa piacere e insomma ringrazio tutti anche Andrea alle luci al mixer eccetera e insomma grazie a voi di essere venuti in questo novembre piovoso che insomma capisco che il divano sia un'attrazione molto forte in queste serate e insomma vi ringrazio due volte per questo motivo e quindi insomma il brano di Serena e di Zamboni grazie quando richiudo il cancello agganciando catena e moschettone arriva un pensiero che sbaraglia le emozioni e che mi preme riportare che a dispetto dell'attuale facilità di movimento dell'abitudine di ingurgitare le distanze dei cosmopolitismi alla moda possiamo dire casa soltanto quel paese dove riposano i nostri morti non dobbiamo confondere casa con cittadinanza che è un dettame etico e civile e sempre deve essere garantita come diritto come dovere a chiunque abiti un territorio indipendentemente dal suo nascere lì no casa è qualcos'altro è la vera legittimità causata dal poter ricevere per avere prima dato a una terra i corpi lo sanno casa è il luogo del ritorno e del riposo quando diciamo infine dove riposano intendiamo le ossa poiché il compito di chi giace lungi dall'essere cessato con la sepoltura prosegue con il cambio di stato dovremmo meglio dire dove vegliano i morti poiché saranno sempre presenti in noi guida e dannazione nei pensieri e nei modi nostri che noi stessi procureremo di consegnare a chi ci seguirà con la sepoltura che ci si 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 Grazie a tutti